Il turismo in Cali Questo è il tema d'apertura della nostra conversazione con Luciano Schifone, consigliere regionale del PDL, delegato del Presidente Caldoro allo sport e allo spettacolo, nonché Presidente del tavolo di partenariato economico e sociale. Luciano Schifone, lo ricordiamo, è stato già assessore al turismo durante la giunta Rastrelli. Un quadro che non sembra incoraggiare il turismo, le vie del mare in tilt e le condizioni del mare soprattutto non ottimali in seguito al cattivo funzionamento del depuratore di Cuma antico male. Sì, questa è la dimostrazione del fatto che ho sempre sostenuto da anni che il turismo è un fenomeno complesso, Un fenomeno complesso che è composto di tanti anelli che devono essere tutti all'unisono in sinergia perché altrimenti se salta uno rischia di salta tutto. E' un fenomeno che si compone dell'elemento certamente attrattivo, dell'elemento attrattore che può essere la monumentalità, può essere il sito archeologico, può essere il sito storico, il sito artistico, può essere il paesaggio, può essere l'elemento del mare o della montagna. Però accanto al fatto attrattore del turismo, del flusso turistico, poi ci sono una serie di elementi che devono comunque convergere per determinare un elemento positivo del turismo. La ricettività, quindi la struttura alberghiera che deve avere una capacità non soltanto dimensionale dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo, l'accoglienza, la struttura di accoglienza, il trasporti e poi naturalmente le condizioni ambientali. Tutto questo deve confluire per determinare. Quando salta qualche elemento di questo centro, la cosa si aggrava. Negli anni scorsi abbiamo avuto una situazione tragica per quanto riguarda il turismo, per delle crisi di emergenza ambientale. Pensiamo agli anni dei rifiuti, all'anno dei rifiuti per strada, ai cumuli di spazzatura, le cui riprese, le cui immagini giravano in tutto il mondo. Evidentemente quello ha determinato un fatto negativo. Abbiamo avuto i periodi di emergenza sicurezza legati alla criminalità, legati purtroppo alle faide violentissime, cruente che si sono abbattute e diffuse in tutta la regione. Quest'anno purtroppo abbiamo questo elemento che è l'inquinamento, l'inquinamento marino, che sta determinando degli effetti certamente negativi. Negli anni scorsi anche ci sono stati altri episodi simili, ma quest'anno sembra in condizioni più estese. E' evidente che c'è un problema, un problema di gestione della depurazione dell'attività urbana. Da questo punto di vista la regione ha fatto degli sforzi enormi. Ci sono ancora in prospettiva i grandi progetti per la depurazione, per l'intervento sui colpi idrici. Quindi una serie di interventi che devono essere realizzati con i fondi europei. Però nel frattempo dobbiamo dire che purtroppo i comuni, quasi tutti i comuni dell'area nord in particolare, dell'area al nord di Napoli, hanno fatto molto poco dal punto di vista della depurazione. Ed è evidente che non è possibile pensare che la regione possa ottemperare a tutto il sistema di immaltimento, di depurazione delle acque che confluiscono a mare. Perché poi quello è il punto essenziale. Tutte le acque poi alla fine finiscono a mare. Nel nostro golfo, anche al di là del golfo, nell'area domiziana, se non c'è stata un'adeguata azione di depurazione, di filtraggio, le conseguenze sono queste. Prima è accennato alla ricettività. A Procida, la cenerentola delle isole partenopea, il comune di Procida entrerà in possesso del vecchio carcere, il Castello Aragonese. Dicono sarà trasformato in albergo di lusso, un 5 stelle. Ci credi? Diciamo che è un vecchio progetto. Il fatto stesso che sia un vecchio progetto che è stato immaginato da un ventennio, perlomeno, che non si sia ancora realizzato, questo certamente non fa ben sperare o rende un po' scettici per il futuro. Certo, non c'è dubbio che quella è la strada, quel sito monumentale così importante, così bello, anche da un punto di vista estetico, che incombe sulla roccia, sul mare, non può che avere una destinazione di questo genere. Naturalmente bisogna riconoscere che l'impresa è ardua per le dimensioni stesse della costruzione, che è una costruzione antica, penso che risalga nel 1200 o qualcosa del genere, poi successivamente trasformata da monastero in carcere giudiziario e penitenziario per parecchiano, lì tra l'altro ci sono passate molte personalità, anche politiche, perché era utilizzato come penitenziario per dissidenti della primora o per risorgimentali, quindi c'è anche una bella storia che riguarda quel carcere. Uno degli ultimi grandi personaggi è stato il generale Graziani, che era stato lì per qualche mese nel dopoguerra e naturalmente deve essere riconvertito in un'attività utile e positiva per l'isola e per il turismo. Si è parlato all'epoca anche di un casino da realizzare in quel castello, certamente un grande albergo con annesse una serie di servizi collaterali è la scelta principale, occorrerebbe però trovare un grande investitore, non penso che l'ente pubblico possa, né il comune nella maniera più assoluta, ma nemmeno la regione, neanche lo Stato immagino in questo momento di questa difficoltà di carattere finanziario possono intervenire per un investimento di quel livello. Bisogna trovare il soggetto privato con un project financing importante e certamente le ricadute e le possibilità di trarre profitto potrebbero essere notevolissime, bisogna fare un po' di marketing territoriale. Apriamo una finestra sulla politica nazionale, PDL e PD in piena fibrillazione, il PD in materia di diritti civili, il PDL per l'annunciato ritorno in campo di Berlusconi. Siamo alla fine del bipolarismo, siamo all'inizio di scissioni nei due maggiori partiti? Certamente siamo in una fase di evoluzione, in una situazione come questa in una società sempre più liquida, priva di riferimenti, di punti di aggancio solidi, è evidente che c'è una forte evoluzione. Io penso che abbandonare il bipolarismo e il maggioritario sia un grande errore, naturalmente però la politica ha i suoi ritmi, ha le sue necessità, i suoi rapporti di forza e quindi ha anche le valutazioni di buonsenso o di posizioni ideali rispetto a delle scelte organizzative dal punto di vista elettorale non sono sostenibili di fronte all'incalzare degli eventi. Da quello che si capisce è probabile che si vada verso una legge elettorale che oltre a ripristinare le preferenze, e questo certamente è un fatto positivo, può portare anche ad un nuovo sistema che sostanzialmente abbandoni il meccanismo maggioritario, il meccanismo bipolare per favorire un meccanismo proporzionale. Se questo dovesse avvenire secondo me è un grave errore perché si ritornerebbe alla Prima Repubblica che non dimentichiamo che ha dato pessimi risultati dopo il primo ventennio della ricostruzione del dopoguerra, dove certamente le cose sono andate in un certo senso positive, che hanno ricostruito l'Italia uscita distrutta dalla guerra, poi negli ultimi decenni della Prima Repubblica certo le cose non erano rose e fiori e il sistema proporzionale mostrava tutte le sue difficoltà. Vedremo cosa accade, per quanto riguarda il Popolo della Libertà l'annuncio di una eventuale, non è ancora definita, possibile ricandidatura di Berlusconi certamente contribuirà a rafforzare dal punto di vista di percentuale il Popolo della Libertà, bisogna vedere se questa scelta è una scelta compatibile con un sistema di alleanze.